Corri il numero 28, il capitano, Polo, con il numero 11, Cristian, con il numero 14, Ugo, con il numero 68, il capitano, con il numero 18, Camino, con il numero 18, Camino, con il numero 20, Camino, con il numero 21, Ugo, con il numero 17, Camino, con il numero 17, Camino, con il numero 20, Acc różne!